La mancanza di donazioni di plasma. Cosa può fare il Parlamento per aiutare le associazioni e per agevolare l'Italia a rendersi autonoma da questo punto di vista e non dipendere anche dagli altri stati? Sì, possiamo fare un atto parlamentare in cui chiediamo al Governo di fare una campagna a vera e propria sensibilizzazione di raccolta di sangue e poi possiamo fare come parlamentari delle norme proposte al Governo che aiutano per esempio, incentivano le aziende con la tassazione, aiutano le aziende con la tassazione perché sappiamo che per produrre un farmaco di questo genere ci vogliono 9-10 mesi e quindi aiutare le aziende come ci hanno chiesto può essere un fatto importante, quindi come parlamentari potremmo proporre al Governo una norma in questo senso trovare le risorse magari anche nell'ambito delle risorse europee e andare avanti su questo punto.